domenica 23 aprile del 2023 buongiorno a tutti voi bentrovati questo è canale forza lazio quindi non mi resta che dare il la con la nostra sigla ed eccomi eccomi qua allora ragazzi sono sincero ho rivisto la partita di ieri e mi resta molto difficile analizzarla perché ci sono una marea di fattori che sono andati ad influenzarla partendo da un presupposto fisso che la lazio di ieri ne siamo tutti consapevoli non era la solita lazio e ci può stare che capita una partita storta storta poi fino a un certo punto la serie ha fatto una partita normale il problema è che la lazio ci ha abituato a fare partite di alto livello quando per me invece la lazio ha fatto una partita normale era una lazio più lenta una lazio che accompagnava poco l'azione offensiva anche la difensiva dove gestavano le distanze tra i reparti non hanno funzionato bene soprattutto tra la linea di centrocampo e la difesa dove spesso si quella è stata la chiave vincente del torino dove spesso si inserivano i giocatori del torino insomma problemi di distanze al netto della prestazione della lazio assolutamente non brillante cioè un fattore che va a influenzare non poco la partita di ieri un fattore molto importante l'arbitro un arbitro penso che sia l'arbitraggio più scarso che abbia mai visto in questa in questo campionato in assoluto è un arbitro pessimo nella lettura cioè a parità di fallo da una parte fischiava dall'altra no dalla parte da per cartellino dall'altra insomma ha condizionato molto la partita e l'ha condizionata un bel po voi sapete non cerco mai scuse l'ha condizionata un bel po io attesto intorno al 30 35 per cento il condizionamento che ha avuto l'arbitro sul risultato finale perché dico questo perché se qualcuno mi dovesse chiedere manuel il torino ha meritato di vincere contro la lazio la mia risposta è assolutamente no manuel il torino ha interpretato bene la partita la mia risposta è assolutamente sì manuel la lazio ha meritato di perdere assolutamente no la partita di ieri ragazzi era una partita che la lazio non doveva vincere la lazio normale tra virgolette di ieri non la doveva vincere non avrebbe meritato di vincere e oggi se avessimo vinto io starei qua a dire che la lazio ha rubato che la lazio non meritava i tre punti quindi è altrettanto vero però che sa lazio non meritava di perdere assolutamente ma proprio minimamente no perché se va andate a rivedere la partita la lazio guardate che ha sviluppato gioco male confusionario ma alla mole di gioco sua la sviluppata era una partita da pareggio ragazzi il risultato giusto era il pareggio sono quindi d'accordo con sarri nel post partita nel momento in cui va a prendersela con con l'arbitraggio non mi piace sarri quando trova le scuse nel post partita anche se anche se non ha tutti i torti forse ha sbagliato tempistica ragazzi sto dai togli dai togli alla juve alla lunga sta rischiando seriamente di falsare il campionato ma niente scuse la lazio ieri ha perso si lecca le ferite non sono successi drammi non leggiamola con la massima serenità non è successo niente rimbocchiamoci le maniche e si ricomincia a 2000 in quel di sassuolo dove dobbiamo andare a vincere perché allora se non vinci corsa a suolo cominciano a scricchiolare delle certezze però continuo a dire io non te meriteresti nemmeno la la qualificazione champions se non vinci la i punti che non hai preso cortorino devi indarteli recuperata in altra parte e col sassuolo stava in preventivo già i tre punti tu i punti che ha perso cortorino te li devi inna prendere in venta e fai quello che vuoi lazio mia perché quest'anno ha dimostrato di avere i numeri con le milanesi a milano due pareggiotti e stiamo a posto pertanto per capirci se poi vinci una delle due la partita cortorino se ne va proprio con nonchalance in archivio prove del 5 può succedere di sbagliare una partita può succedere di prendere un un gol così quindi non è successo assolutamente ma proprio niente 5 comunque pagella romagnoli leggermente meno brillante del solito ma lui il 6 se lo prende sempre 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 senza ombra di dubbio così come patrick patrick per me che ha fatto non ha sbagliato molto ha fatto la sua partita onesta e si merita assolutamente il il 6 ho visto leggermente in affanno in alcune circostanze ma rusic sì l'ho visto leggermente in affanno un po meno brillante nelle chiusure delle linee difensive quindi ragazzi sono sincero amaro si ce non mi sento di dare una sufficienza gli da una leggera insufficienza cinque e mezzo gli usa invece si prende il suo 6 si prende il suo 6 tranquillo perché anzi pure molto intraprendente si continua a dire che c'era un fallo grande come una baracca per per gli usai per il fallo sugli usai poi posso dire la verità io anche oggi dopo che l'ho visto e l'ho visto quello non è calcio di rigore mai sono sincero una mano cioè non si possono rischiare certi rigori si è lasciato cadere gli usai almeno questo è il mio punto di vista comunque gli usai si prende il 6 assolutamente senza proprio il minimo dubbio andiamo a centro campo vesino 6 ha fatto il suo la sua partita onesta senza strafare vedete come sto dando sufficienze proprio perché sono consapevole della prestazione che ha fatto la lazio milinkovic bene un tempo e mezzo poi però proprio si è sfaldato pure lui ha cominciato a giocare con superficialità però ragazzi ci mette fisicità ci mette già con la sua prestanza con la sua classe fa tanto quindi comunque non mi sento di dare l'insufficienza così come non mi sento di dare l'insufficienza a luis alberto che per molti può passare come una partita sottodono ma guardate che la partita del luis alberto lo detto anche nella cronaca di ieri è stata una partita molto difficile molto difficile con iurice che aveva preparato marcature doppie se non triple sul giocatore spagnolo non appena arrivava in possesso di palle ed è proprio per questo che ieri abbiamo visto spesso i difensori fare un lanci lunghi o impostare proprio perché mancava lo sbocco anche vesino marcato molto bene verso verso appunto luiz luiz alberto andiamo agli attaccanti allora zaccagni sei e mezzo per me il migliore della lazio è quello che con intraprendenza ha provato più volte ad accelerare però vi dico la verità ha trovato singo che fisicamente lo ha sovrastato anche se singo in un paio di circostanze forse un altro cartellino l'avrebbe meritato vi dico la sincera verità pedro non pervenuto cinque a parte quel guizzo al quarantesimo secondo non appena la partita iniziata però non ha fatto niente di che molte nombra non era la giornata giusta ma sono giornate che possono capitare ragazzi ricordiamoci di analizzare la stagione nell'arco delle 38 partite non focalizziamoci solamente su quella di ieri felipe anderson è la pagella che mi manda in tilt perché felipe anderson gioca un primo tempo onesto da sei sei e mezzo pure guarda che vi dico perché lo vedevo bello in palla al zillo pimpante spesso andava spesso andava anche a saltare l'uomo a creare superiore numerica quindi assolutamente su felipe anderson un bel primo tempo poi il secondo tempo sembra di essere ritornati a vedere il felipe anderson di un anno e mezzo fa quello stralunato che improvvisamente spenge l'interruttore della mente e va in tilt e vi giuro luisa alberto può essere sembrato aver fatto una prestazione simile a felipe anderson ma sono completamente diverse le due felipe invece mentre luisa alberto ve l'ho detto poco fa ve l'ho motivato felipe anderson ragazzi secondo tempo disastroso ha sbagliato tutto è cascato in una depressione clamorosa è finito felipe anderson la lazio ha giocato non con un giocatore meno ma con due meno perché la dimostrazione della partita di ieri è che immobile non era in grado di giocare poi chiaramente sardi ha messo dentro tutti ma nel momento in cui la lazio ha avuto immobile felipe anderson dentro la lazio ha finito di giocare si è affidata a mininkovic là davanti a far centravanti e niente insomma ragazzi una giornata storta ci può stare ci può stare sarri se prende il 6 comunque perché stavolta ha tinto a tutta la panchina per quelle che erano le sue potenzialità quindi do solo un 4 in pagella basic mi spieghi perché te la ritevi in panchina mentre la partita stava in una situazione drammatica